20 milioni di euro per investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Ria stanziati l'assessorato regionale dell'agricoltura che ha pubblicato i bandi cui possono partecipare i singoli comuni o associati ai consorsi di strade vicinali. L'intervento si inserisce nelle azioni del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Le domande sottolineano una nota dalla Regione e vanno presentate a partire dal 6 settembre fino al 6 ottobre 2017. Si tratta di un bando molto atteso dai comuni, un'azione importante per le zone interne della Sardegna e per tutte le aziende agricole che ne beneficeranno. Quanto ha sottolineato l'assessore dell'agricoltura per l'Ugicaria che ha aggiunto far crescere e migliorare la produttività delle nostre imprese passa anche per la capacità di infrastrutturare le campagne. Col piano di sviluppo rurale passato e con quello attuale stiamo investendo enormi risorse su questo processo di ammodernamento finanziando per esempio la copertura della banda ultralarga in buona parte dell'isola con particolare attenzione alle zone interne e rurali. L'importo massimo dalla domanda di sostegno è fissato in 200.000 euro e va inclusa, spiega la Regione. Nel caso di domande presentate da comuni associati, l'importo potrà essere moltiplicato per il numero dei comuni interessati dall'intervento fino a 600.000 euro. È consentito il finanziamento di un solo intervento per territorio comunale. Pertanto, a concludere la nota, i comuni che parteciperanno in forma associata o attraverso un consorzio di strade vicinali non potranno presentare domande di sostegno come singoli. Così come i comuni che invieranno domande singolarmente non potranno presentarsi in forma associata o in un consorzio di strade vicinali.